Si conclude oggi Abruzzo attrattivo, due giornate, la prima all'Aquila, oggi a Pescara. Che cosa ne è venuto fuori da queste due giornate di incontri? Innanzitutto è venuta fuori tanta soddisfazione perché in sala praticamente, la sala è gremita, le persone sono in piedi, vuol dire che abbiamo ottenuto il risultato. Tanti operatori, tanti professionisti che vogliono ritrovarsi per studiare insieme, formarsi, ascoltare, parlarsi, conoscersi meglio e magari programmare collaborazioni e cooperazione per il futuro. Magari farlo anche insieme a quegli enti, quelle amministrazioni, quelle istituzioni che hanno bisogno di confrontarsi con gli operatori, con chi tutti i giorni è sul campo e fa turismo. Alcune idee per il futuro? Le idee sono tante, sicuramente quello di migliorarci, idea di in qualche modo rilanciare un'ambizione sana, non la presunzione di dirci che noi siamo la regione più bella, siamo i più bravi, ma dobbiamo crescere perché ci sono regioni che sono avanti a noi e noi dobbiamo recuperare dei ritardi, anche se negli ultimi anni si sta facendo molto, molto grazie agli operatori e professionisti che stanno investendo il loro tempo, anche i loro denari, le loro professionalità e qualcosa stanno facendo anche questi enti, queste amministrazioni, ma devono accelerare, devono riprendere il passo degli operatori. È un messaggio verso la politica allora? Assolutamente sì, non abbiamo problemi con la schiena dritta di dire alla politica che ci sono cose buone che sono state fatte, che vengono fatte, ma ci sono anche cose non buone come ci diciamo anche noi professionisti, quindi la politica dovrebbe cogliere e fare con maggiore giustizia, attenzione e con maggiore professionalità fare del turismo una cosa seria, come ci piace dire a noi. Il turismo forse è il comparto che genera più occupazione rispetto alle nuove generazioni. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che il turismo dà opportunità a regioni, a territori come anche l'Abruzzo, di contrastare o rallentare il fenomeno dello spopolamento, dell'emigrazione di nuove generazioni, quindi io fossi nella politica, nelle istituzioni investirei molto nel turismo.